Buon pomeriggio, benvenuti a Film del Siglo, film argentino della competizione. Film del Siglo è principalmente prima di tutto una storia d'amore, una bellissima storia d'amore. Ma prima ancora è una storia di spiazzamento, ci sono due giovani uomini, entrambi di lingua spagnola, uno di loro vive a New York, l'altro vive a Berlino, e si incrociano a Barcellona, estranei al luogo, al posto nel quale si trovano. E appunto tutto comincia dal loro spiazzamento e dai ricordi che la faccia di uno e la faccia dell'altro suscitano e evocano. E' il primo film di un autore argentino che ha studiato cinema, poi ha studiato anche stilismo, ha fatto anche lo stilista. E questo è appunto il suo lungometraggio d'esordio. Si chiama, vi presento, Lussio Castro. Grazie a tutti, grazie a Manuela. That's all my Italian for tonight. Thanks so much for being here. I'm very honored to be in the festival. Thanks for the committee. Since I finished the movie, I wanted to be in Torino. Honestly, this is not a lie. I'm not going through. It's a festival that, you know, supports emerging filmmakers and I think that's really important. Also, I love when a city turns up and lights up with cinema. I feel like it happens here. Per prima cosa voglio ringrazzarvi tantissimo di essere qui presente alla mia proiezione e mi sento davvero estremamente onorato di essere stato selezionato per parte del concorso qui al festival di Torino. Da sempre, volevo venire al Torino Film Festival, non è piageria, sono sincero perché è una città ed è un festival che danno molta fiducia ai giovani registi, agli esordienti, a chi vuole appunto provarci e mi piace tantissimo l'atmosfera che si respira qui a Torino dove la città si illumina di cinema. So, I'm very, very excited to open the movie in Italy in this festival in Torino. And, you know, I already told you something about the film. I don't want to say much. There's going to be a Q&A afterwards. But I really hope you watch with an open mind. There's many things that might be a little bit surprising, and I think that's good, or it's going to be too good for me, at least, as a viewer. So, we'll talk about it later, and I hope you enjoy it. And I say thank you so much for being here. Come ho già detto, è davvero un grande onore essere qui al Festival di Torino e avere questa anteprima del mio film. Emanuele vi ha raccontato un pochino la trama del film stesso e dunque io non ve ne parlerò assolutamente. Ci sarà una Q&A dopo la proiezione e mi auguro che osserviate, guardiate questo film con la mente aperta e che siate disposti a farvi sorprendere. Io, quando sono uno spettatore, amo moltissimo questa sensazione. Buona visione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.